Sebastian Loeb, sempre lui. Il francese ha timbrato per la seconda volta in stagione il cartellino vincendo il rally di Sardegna, quinta prova del mondiale. Una vittoria arrivata sullo sterrato, non la superficie preferita da Loeb, al termine di un fine settimana in cui il pilota della Citroën Racing ha amministrato un vantaggio di 30 secondi accumulato al termine della prima giornata di prove. Un successo che vale doppio per Loeb, che risponde per le rime al compagno di squadra Sebastien Oje, vincitore delle ultime due gare in Portogallo e Giordania, portando così a 64 i successi della sua straordinaria carriera. In Sardegna l'Alsaziano è stato insidiato da Mikko Irvonen, che ha pagato molto cara la foratura della settima speciale, che gli è costata in termini di tempo circa 50 secondi. Un'enormità, contando che il finlandese era arrivato alla vigilia della Power Stage con soli 14 secondi di distacco dal sette volte campione del mondo. Il pilota della Ford è abbonato alla piazza d'onore in Sardegna, visto che è salito per la quinta volta sul secondo gradino più alto del podio. I tre punti conquistati nella Power Stage consentono comunque al finlandese di rimanere attaccato a Loeb, staccato ora di sette lunghezze. Estremamente regolare anche Peter Solberg, il norvegese è stato per tutto il fine settimana veloce come i team ufficiali, precedendo quel Sebastien Oje che non riesce proprio a farsi entrare nelle grazie gli sterrati sardi. Il francese, reduce da due vittorie consecutive, è rimasto in zona podio fino alla penultima speciale, quella di Terranova, quando un guai alla sospensione della sua Citroen lo ha relegato in quarta piazza. La delusione più grande è arrivata da Iari Matti Latvala, che ha pagato a caro prezzo l'incidente avvenuto dopo tre chilometri dalla prima speciale. Un guaio che ha condizionato la classifica del finlandese della Ford, vincitore di sette delle ultime dieci prove, ma comunque fuori dalla zona punti è scivolato a meno 32 dalla vetta. In Sardegna i fari erano puntati sul ritorno della mini a oltre 40 anni dai trionfi monegaschi. La countryman, nonostante ampi margini di miglioramento, ha centrato un buon sesto posto con Dani Sordo. L'obiettivo dichiarato dalla casa anglo-tedesca era quella di non sfigurare di fronte i team ufficiali. I tre minuti e mezzo di distacco da Leub dimostrano che, con tanto lavoro, il gap dei primi della classe è colmabile da qui al 2012, anno di debutto ufficiale della mini nel mondiale WRC. Allora andiamo a vedere subito la classifica del mondiale, che vede ovviamente Sebastian Leub sempre più primo, con un buon vantaggio nei confronti di Mikko Ervonen, sette punti, cento contro i 93. Poi ancora una Citroën, quella di Augè, in terza posizione 81, poi Latvala, Peter Solbrand, ancora su Citroën a 46 punti, via via tutti gli altri. Diamo un'occhiata anche a quella che è la classifica costruttori con la Citroën, anche qui in prima posizione e con un buon margine nei confronti della Forpa e Stotbart e via tutti gli altri, con il team di Peter Solbrand, quarto con 37 punti, anche lui su una DS3. Allora Simone, abbiamo visto la classifica, abbiamo visto un Sebastian Leub straordinario, capace di dominare questa tappa del mondiale dal venerdì alla domenica sera. Un Sebastian Leub in Sardegna estremamente carico, che ha ristabilito i gradi di capitano, se dopo la Giordania c'era stato qualche dubbio a discapito del compagno di squadra Augè, un Sebastian Leub che ha attaccato per tre giorni e non dimentichiamo anche che partendo per primo ha dovuto pulire le strade e sulla terra sarda, che è molto scivolosa, non è assolutamente facile. Quindi uno stradominio di Sebastian Leub e della Citroën che ha ridimostrato di essere la vettura da battere. Allora parleremo ancora di questo mondiale, però andiamo a ascoltare proprio le dichiarazioni che ha rilasciato Sebastian Leub e Mio Crofini di Sport Italia, una breve intervista realizzata da Claudio Barbieri. Com'è cambiato il tuo approccio alla gara con la nuova vettura, la DS3? L'approccio è più o meno lo stesso, abbiamo una nuova auto con alcuni nuovi pezzi che abbiamo provato prima del mondiale per cercare di renderli conformi al regolamento, naturalmente per rendere la vettura il più efficace e veloce possibile. A tuo parere le nuove vetture hanno dato maggiore equilibrio al mondiale? Queste auto sono più simili e quindi risulta più difficile fare la differenza. Quest'anno Ford e Citroën sono molto vicino per quel che riguarda le prestazioni su tutti i terreni. Ci sono due ottimi piloti per ogni team, anzi tre con Peter Solbre alla Citroën. Anche per questo motivo credo che per la vittoria del mondiale sarà una lotta dura fino al termine della stagione. Dove trovi gli stimoli per continuare a correre e vincere? Le motivazioni sono sempre le stesse, adoro i rally, questa disciplina. E quando comincio a correre l'obiettivo è quello di vincere. Quest'anno non sarà certamente una passeggiata, ve lo posso assicurare, perché in questo campionato c'è molto equilibrio, ma cercherò di fare del mio meglio per conquistare questa vittoria. Confermi la volontà di ritirarti a fine stagione? Per il momento non confermo nulla, è una cosa su cui sto riflettendo, questo è vero, ma per il momento non ho preso alcuna decisione. Lo sport è pieno di grandi ritorni, Michael Schumacher in Formula 1, Michael Jordan nel basket, Lance Armstrong nel ciclismo. Il tuo ritiro sarà una scelta definitiva? Chi aveva deciso il ritiro non avrebbe mai immaginato di rientrare. Certo non si può mai dire, ma penso che la mia sarà una scelta definitiva. Il giorno che deciderò di lasciare l'attività agonistica mi piacerebbe restare nell'ambiente sportivo, ma una volta deciso il ritiro non tornerò più sui miei passi. Sebastien Loeb non ci ha detto se si ritirerà a fine stagione o no, lo vedremo, lo scopriremo, magari dopo aver vinto ancora l'ottavo titolo consecutivo. Ha la possibilità di farlo secondo te? Assolutamente sì, è da sette anni campione del mondo e chi se non lui è il favorito. Conosce molto bene i percorsi del mondiale rally, ha dimostrato di essere un marziano in tutte le specialità, asfalto, terra e inoltre è anche un ottimo collaudatore e penso proprio che sarà un peccato nel caso decidesse di lasciare perché è un pilota competitivo come lui, è davvero un peccato. Ma è più pericoloso, Ogier c'è una concorrenza interna o Irvone e No Latvala quella Ford? Ma credo che Ogier in questi due anni abbia veramente fatto dei passi da gigante e addirittura ha sbaragliato anche Iari Marti Latvala che era il pupillo di Ford e dimostrando in due anni di fare passi avanti. Tu non guidi esattamente la stessa vettura di Sebastian Loeb, però com'è questa nuova DS3? Questa nuova DS3, allora la vettura del mondiale è una vettura 1.6 con motore turbo, 4 ruote motrici che si differenzia particolarmente dalla nostra proprio per il discorso che la nostra è una vettura 2 ruote motrici. Per il resto a livello telaistico le vetture sono abbastanza simili e la nostra ha un cambio elettroattuato, elettronico a differenza di quella del mondiale che invece con le nuove regolamentazioni FIA hanno cambi manuali e solo sequenziali. Parliamo anche invece, ecco qua, le immagini della tua partenza a Redi Costa Smeralda e credo che Simone sia andata piuttosto bene, come già all'esordio alla prima gara della Libia Emilia. Direi che all'esordio stagionale, due vittorie in due gare disputate, un ruolino di marcia molto importante, abbiamo cercato di ripagare la fiducia che ci è stata data in questo 2011 da Citroen impegnandoci al massimo e queste due vittorie appunto sono proprio il risultato di un lavoro che è iniziato all'inizio di questa stagione agonistica e speriamo che prosegua nel migliore dei modi. Due vittorie ma anche un quinto posto assoluto al termine della Sardegna, quindi questo forse ti rende ancora più felice. Sì, un risultato che mi rende estremamente felice, mi fa ben sperare anche per il futuro, visto che la gara Sarda era in un contesto mondiale e soprattutto ha messo la nuova Citroen DS3 R3 come vettura da battere nella categoria e soprattutto come vettura competitiva a livello anche assoluto in quanto abbiamo tenuto dietro di noi nella classifica generale diverse vetture di Super 2000, quattro ruote motrici. Lecizzo a sognare, il tuo futuro dove lo vedi? Nel mondiale magari con una Citroen? A fiacco magari di Auger quando il club forse... Quando ricevo questa domanda è sempre difficile rispondere. È chiaro che per ogni pilota il sogno è quello di arrivare nel mondiale rally e chi se non con Citroen che è da sei anni campione del mondo costruttori, però è importante concentrarsi su questo 2011 e continuare a vincere. Prossima tappa? Prossima tappa rally della Targa Florio il 5-6 giugno in Sicilia. Nel rally più antico al mondo e dove cercheremo anche lì di andare al massimo per portare i colori Citroen in alto. E noi ci seguiremo, allora grazie a Simone Campedelli. Chiudiamo qui questa prima puntata di Motorzone Speciale Rally. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento naturalmente con i programmi di Sport Italia, Sport Italia 2 e Sport Italia 24. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.